Musica Nella lezione precedente abbiamo introdotto il gruppo fondamentale e l'abbiamo essenzialmente solamente definito in questa lezione invece vediamo le sue principali proprietà, quelle di base dimostreremo che il gruppo fondamentale π1 è un funtore allora intanto cosa bisogna dimostrare? vogliamo dimostrare che è un funtore che va dalla categoria degli spazi topologici puntati che indichiamo con un più qui in basso e ha valori nei gruppi quindi cosa vuol dire? che ogni spazio topologico puntato se io calco il π1 ottengo un gruppo non solo un insieme ma un gruppo per adesso noi sappiamo solo che è un insieme quindi il punto 1 che dimostreremo è che π1 xx con 0 è un gruppo per ogni spazio topologico puntato xx con 0 poi per essere un funtore non solo deve agire sugli oggetti ma deve agire anche sui morfismi quindi se ho una funzione continua di spazi puntati da xx con 0 in yy con 0 che vuol dire essenzialmente una funzione continua da x a y che manda il punto x con 0 di x nel punto y con 0 di y allora ottengo un omomorfismo quindi un morfismo dentro la categoria dei gruppi che va dall'immagine del funtore applicata a questo oggetto all'immagine del funtore applicata a questo oggetto cioè da π1 xx con 0 a π1 yy con 0 e questo omomorfismo indotto che chiamiamo f stella deve soddisfare due proprietà allora la prima proprietà è che se io qui prendo come codominio il dominio xx con 0 e prendo la mappa identità se applico il funtore π1 devo ottenere l'identità a livello di omorfismi da gruppo fondamentale di πx con 0 in se stesso quindi l'identità dentro questa categoria quando applico π1 il suo omomorfismo indotto qui deve essere l'identità in questa categoria e poi un'altra proprietà assolutamente ragionevole è che se prendo una composizione di morfismi dentro top per esempio f composto g io finirò applicando π1 a questi morfismi devo finire nella composizione del omomorfismo indotto da f composto con l'omomorfismo indotto da g allora queste due proprietà sostanzialmente sono necessarie per essere in grado di paragonare le strutture delle categorie top, più e gruppi è un po' come quando guardavamo nella categoria dei gruppi gli omomorfismi perché noi consideriamo da un gruppo un altro gruppo invece che una mappa semplice di insiemi un omomorfismo l'omomorfismo è una mappa di insiemi che soddisfa delle proprietà quelle proprietà supplementari servono per in un certo senso assicurarsi che la struttura algebrica del gruppo dominio sia compatibile con la struttura algebrica del gruppo codominio e questo ci permette di poi paragonare non solo insiemi ma gruppi cioè insiemi con strutture algebriche e qui un po' la stessa cosa queste due proprietà essenzialmente danno al funtore la possibilità di guardare diagrammi in top ottenere dei diagrammi in gruppi e se questi diagrammi sono commutativi anche questi diagrammi qui sono commutativi sostanzialmente quindi permette di paragonare la struttura della categoria che abbiamo in questa le strutture in questa categoria qui con le strutture nella categoria codominio se vogliamo del funtore quindi il primo punto che andremo a dimostrare è che pi greca 1 x x con 0 non è solo un insieme ma è un gruppo allora come facciamo? dunque partiamo dalla definizione questo qui è un insieme di quoziente di questo insieme qui prendevamo mappe puntate da S1 con un punto base che chiamiamo P a x x con 0 tutte le mappe continue e quozientavamo per una relazione di omotopia allora per cominciare a dare la struttura di gruppo ovviamente dobbiamo definire una moltiplicazione interna dobbiamo definire date due classi qui dentro il loro prodotto allora siccome ogni classe qui dentro è rappresentata da una funzione da S1 a x che è puntata un modo per definire il prodotto nelle classi è intanto cominciare a definire un tra virgolette prodotto quindi un'operazione binaria su queste funzioni continue quindi date due funzioni da S1 in x puntate come definiamo questo simbolo qui f per g dovrà essere certamente un'altra funzione dello stesso tipo cioè lo stesso dominio e lo stesso codominio e una volta definito questo prodotto dobbiamo verificare che passerà al quoziente perché questo è il quoziente di questo insieme qui quindi dovremo poi verificare che questo prodotto qui sarà invariante per omotopia comunque lo faremo in un secondo passaggio per il momento definiamo questa mappa quindi la definiamo con dei disegni quindi partiamo dall'ipotesi che abbiamo f e g due funzioni allora prima di definire una funzione da S1 in x puntata che rappresenterà il nostro f per g facciamo una costruzione intermedia consideriamo la somma puntata di S1 con S1 con Q come punto base e dunque abbiamo che in questo S1 c'è un punto base che chiamiamo P in quest'altro S1 abbiamo sempre un punto base che chiamiamo P orientiamo i P in modo tale che poi vanno a coincidere quando facciamo la somma puntata e il punto base di questa somma puntata è la classe del P del primo S1 e il P del secondo S1 che chiamiamo Q quindi noi abbiamo per ipotesi che siccome entrambe f e g mandano P in x con 0 noi avremo che se definiamo la F su questo S1 siccome il P va a coincidere con il Q la F su questo S1 manderà questo punto Q in x con 0 ma lo stesso succede con G quindi questa funzione ben definita è definita come F su questo cerchio qui e come G su quest'altro e sono compatibili perché ho fatto coincidere i due punti base in questo punto qui quindi otteniamo una mappa che chiamiamo F insomma puntata con G che va da S1 somma puntata in S1 in x a questo punto noi come ci fabbrichiamo una mappa da questa che va da S1 in x? beh noi abbiamo certamente una mappa che va da S1 in S1 somma puntata S1 che è semplicemente lo otteniamo semplicemente prendendo possiamo partire dal punto base P prendiamo il suo antipodale P' e cozzentiamo in modo tale che P e P' vada a coincidere quindi se io schiaccio questo P' su questo P ottengo una somma puntata di due cerchi il primo è l'immagine di questo semicerchio in alto e il secondo è l'immagine di questo semicerchio in basso quindi noi definiremo F per G la mappa che prima applica questa proiezione da S1 sulla somma puntata di S1 per S1 e poi applica la somma puntata di F con G questa qui è una funzione continua che va da S1 a x con 0 e è una funzione puntata perché il punto P di S1 andrà nel punto Q e poi il punto Q abbiamo visto che va in x con 0 tramite questa mappa dobbiamo ora dimostrare che questa operazione qui, punto, che abbiamo definito qui che prende una coppia di mappe e definisce una mappa sempre da S1 a x quindi a livello di funzione è una funzione che va nel prodotto cartesiano di mappe da S1 a x puntate a S1 a x puntate in se stessa si fattorizza attraverso la relazione di equivalenza che abbiamo di omotopia per ottenere il pi greca 1 da questo insieme quindi cosa vuol dire? vuol dire sostanzialmente che se prendo due mappe omotope qui dentro e due mappe omotope qui dentro e vado a moltiplicare prima due rappresentanti F' con G' e poi gli altri due rappresentanti F con G ottengo due mappe che sono omotope in questo modo io avrò che questo prodotto PER si fattorizza attraverso le relazioni di equivalenza omotopia nel dominio e nel codominio per far ciò faremo un bel disegnone cominciamo con dare nome a queste omotopie quindi chiameremo con H e denoteremo col colore arancione l'omotopia tra F' e F con K quella da G' a G e quella che noi vogliamo costruire tra F' per G' e F per G la chiameremo L allora dunque vogliamo un'otopia L tra queste due funzioni ciascuna di queste due funzioni definite da S1 a X al tempo T uguale a 0 abbiamo la F per G definita qui e il tempo T uguale a 1 abbiamo F' per G' che è questa qui in alto per definizione queste due mappe si fattorizzano in questo modo proiezione sulla somma puntata di cerchi e poi composizione con somma puntata delle due mappe sia in un caso che nell'altro allora per costruire la L dobbiamo avere dobbiamo usare l'ipotesi che abbiamo l'omotopia H e l'omotopia K vediamo in che modo l'omotopia H ci dà un'estensione della mappa F su questo cerchio cioè F' su questo cerchio F' ed F su questo cerchio qui in basso alla superficie laterale di questo cilindro e la l'omotopia K ci dà una estensione della G' su questo cerchio e G su quest'altro a tutta questa superficie cilindrica quindi noi le mappe da questo cilindro qui attaccato a quest'altro cilindro lungo questo segmento ce l'abbiamo ed è data dalla mappa H e K H su questo cilindro e K su questo cilindro il segmento su cui ci attacchiamo corrisponde al punto base per I dove I è l'intervallo che parametrizza le omotopie allora come definiamo la mappa l'omotopia L beh l'omotopia L la definiamo esattamente come avevamo definito la funzione la funzione prodotto di due funzioni com'è che avevamo fatto avevamo precomposto la somma puntata di queste due di due mappe con la proiezione del cerchio sulla somma puntata dei due cerchi qui facciamo lo stesso con l'omotopia quindi precomponiamo la somma puntata se vogliamo dell'omotopia H con l'omotopia K anche se non è veramente puntata in un punto ma è lungo cioè i due cerchi su cui i due cilindri su cui abbiamo definito l'omotopia e li attacchiamo lungo un segmento bene precomponiamo questa composizione di H con K in X con la proiezione di un cilindro in cui andiamo a identificare questo segmento con quest'altro e questi due segmenti sono dati dal punto base di S1 per l'intervallo e dal suo antipodale per l'intervallo quindi questi due segmenti che sono diciamo in questo modo sono evidenziati in magenta li possiamo far possiamo mettere una relazione di equivalenza in modo tale che i punti di questo segmento vengono identificati con i punti di questo in forma antipodale questo ci dà una proiezione sul quoziente che è esattamente questo quindi noi componiamo HK la composizione di HK se vogliamo puntata che va da questa quest'unione di cilindri in X con la proiezione che manda questo cilindro sul suo quoziente che è questa figura questa composizione è la nostra L quindi un rappresentante per la classe F per la classe G è la mappa F per G definita sopra e abbiamo dimostrato che questa definizione non dipende dalla scelta delle classi di motopia per la classe F e la classe G ora che abbiamo definito l'operazione di chiusura dell'insieme pi greca 1 X e X con 0 cerchiamo di dimostrare che con questa operazione è un gruppo e quindi dobbiamo verificare che siano soddisfatte tre proprietà la prima è che esista un elemento neutro quindi la classe identità se vogliamo 2 che esistono gli inversi rispetto all'operazione di prodotto definita prima e 3 che questa operazione sia associativa cominciamo con la classe identità che è rappresentata dalla mappa costante da S1 nel punto base X con 0 si verifica lo lascio per esercizio che c'è un'omotopia tra questa classe qui e il prodotto cioè quello che c'è da verificare è che questa classe qui se la moltiplichiamo con la classe di una mappa costante da S1 in X puntata la lascia invariata ci sarà un'omotopia da trovare tra il prodotto a destra e il prodotto a sinistra di questa classe costante per F con la F stessa è semplicemente una riparametrizzazione della mappa definita della F definita sul cerchio quindi lascio questo come esercizio e invece andiamo a discutere la qual è la classe inversa di una mappa F quindi supponiamo che F sia una mappa da S1 in X puntata allora l'affermazione che facciamo è che la classe inversa di F è rappresentata dalla seguente funzione precomponiamo la F con questa funzione S che è definita S è una funzione che va da S1 in S1 e è definita in questo modo se noi parametrizziamo il cerchio S1 unitario centrato nell'origine in R2 con coseno di teta seno di teta per teta tra 0 e 2 pi greco allora la S è definita come S di coseno di teta seno di teta uguale coseno di teta meno seno di teta sostanzialmente per teta che va tra 0 e 2 pi greco al posto di percorrere il cerchio in senso orario lo percorro in senso anti-orario lo percorro in senso orario dobbiamo dimostrare che con questa definizione di classe inversa noi abbiamo che appunto è proprio un inverso quindi dobbiamo moltiplicare una classe di F per la classe di F alla meno 1 prima a destra poi a sinistra e dimostrare che questa è la classe della mappa costante in x con 0 faremo la dimostrazione solo per la moltiplicazione a destra la moltiplicazione a sinistra è analoga e risulterà che se noi definiamo F per F per questa mappa qui F composto con S non otterremo la mappa costante x con 0 ma otterremo una mappa che è omotopa alla costante x con 0 quindi qui dobbiamo proprio andare a esplicitare l'omotopia del rappresentante del prodotto con la mappa costante x con 0 allora abbiamo il nostro cilindro qui a sinistra con le due mappe definite sulle sulle due basi una base in alto e una base in basso per questa volta lasciamo lo 0 in alto e l'1 in basso invece che viceversa quindi abbiamo che la mappa nella base in alto del cilindro è costante x con 0 che è il rappresentante della classe di cui vogliamo trovare l'omotopia e in basso invece abbiamo il rappresentante di questo prodotto che è dato da F per F composto S questo è il rappresentante di questo prodotto qui e quindi è una composizione che va da questo cerchio in cui collasso questi due punti antipodali ottengo somma puntata di due cerchi e poi prendo la somma puntata di F con l'altra funzione che voglio che rappresenta la F inversa dunque per vedere come agiscono queste mappe qui per il momento è meglio considerare la somma puntata di due cerchi vederla così piuttosto che così ora è esattamente la stessa cosa questi due spazi sono omeomorfi solo che adesso come vedremo è un po' più semplice vedere la composizione e l'applicazione della mappa F e di quest'altra mappa F composto S ciascuno su due cerchi messi così piuttosto che messi in questa posizione allora come definiamo l'omotopia al tempo t generico tra 0 e 1 dunque la definiamo quindi dobbiamo definirla su questo cerchio dividiamo il cerchio in due parti quindi è una definizione della mappa prima su quest'arco di cerchio e poi su quest'altro arco rosso su quest'arco qui magenta percorriamo sostanzialmente applichiamo la F ma non su tutto il cerchio ma solo fino a un certo punto il punto in cui noi ci fermiamo dipenderà da T e vedremo poi nella versione in coordinate di questa omotopia H per T uguale a 0 questo punto in cui noi arriviamo coinciderà col punto di base non ci muoveremo da qui per T uguale a 1 questo punto arriva e fa il giro completo del cerchio e per un T intermedio arriva solo fino a un certo punto supponiamo che arrivi fino a qui ok quindi io a questi punti qui di questa circonferenza applico la F in modo tale che quando arrivo qui non ho percorso tutto il cerchio come all'altezza 1 ma ne ho percorso solo una parte dopodiché cosa succede che quando io attacco con il resto della circonferenza è come se io ritornassi indietro ripercorrendo questo cerchio al contrario ok però devo scriverlo in termini di somma puntata di due mappe definite ciascuno sulla somma puntata di due cerchi quindi la parte viola mi percorre la circonferenza fino a qui e mi applica la F una volta che io arrivo dall'intersezione di questo segmento verticale che è semplicemente l'antipodale del punto base qui moltiplicato per l'intervallo I proseguo con la mappa quella rossa che è F composto S e cosa mi fa mi mi prende il mi riparametrizza questa S qui mi riparametrizza al contrario il cerchio e gli applico ancora la F quindi gli applico la F con la riparametrizzazione del cerchio al contrario ok quindi io da qui riprendo da questo punto quindi si incollano la F su questo punto e la F composta S su questo punto coincidono dopodiché vado avanti e ripercorro questo cerchio qui al contrario ok allora adesso vediamo in coordinate qual è l'espressione di questa omotopia H la funzione H dipenderà da θ e da T θ è il parametro che al cui variare mi fa girare il punto di cui guardo l'immagine attorno alle circonferenze e T invece è il parametro dell'omotopia quindi come avete visto dalla descrizione grafica della funzione H è una funzione definita a tratti dove il primo tratto è sostanzialmente questa parte qui del cilindro e l'altro tratto è quest'altra parte del cilindro quindi la prima parte corrisponde per θ compreso tra 0 e pi greco e la seconda parte per θ è compresa da pi greco a 2 pi greco quindi su questa parte qui del cilindro noi abbiamo che H è definita come la F applicata a coseno di θ per T seno di θ per T quindi vediamo che al tempo T uguale a 0 noi abbiamo che non la F rimane costante perché al variare di θ ho sempre 0 come gli argomenti di seno e coseno quindi è sempre costante in coseno di 0 seno di 0 che è il punto base che ci siamo scelti quindi per T uguale a 0 che siamo qui in alto la funzione H è costante in x con 0 cioè nella F di del punto base più 1 che è x con 0 quindi la restrizione di questa H θ al tempo T uguale a 0 la costante x con 0 al tempo T uguale a 1 invece abbiamo coseno di θ seno di θ e e qui abbiamo quest'altra parte quindi al tempo T uguale a 1 stiamo guardando la base di questo cilindro abbiamo che su questa parte del cerchio abbiamo la F applicata a coseno di θ seno di θ per θ tra 0 pi greco quindi percorrendo questo cerchio da qui fino a qui abbiamo la F e poi percorrendo il cerchio da qui fino a qui quindi per θ pi greco a 2 pi greco abbiamo coseno di 2 pi greco meno θ e seno di 2 pi greco meno θ ok e quindi per θ uguale a pi greco che è il punto di partenza noi abbiamo coseno di pi greco e seno di pi greco che è esattamente quindi la F applicata a coseno di pi greco e seno di pi greco che è esattamente il punto in cui io avevo lasciato qui la funzione definita nel tratto precedente quindi le due funzioni coincidono lungo questo segmento e poi continuano con la percorrenza del cerchio di questa parte qui e della F che torna indietro in pratica riparametrizza il cerchio al contrario perché da pi greco qui io ritorno a quando il θ è 2 pi greco ritorno a 0 quindi in questo intervallo l'argomento del coseno andrà da pi greco a 0 invece che da 0 a pi greco come nel caso precedente e anche qui da pi greco a 0 quindi ripercorro la circonferenza al contrario e al variare quindi la restrizione è la base esattamente il prodotto di F con F composto S e per valori di T intermedi noi abbiamo esattamente una funzione che è come ho descritto precedentemente arriva fino alla F fino a un certo punto che non è pi greco ma arriverà un po' meno di pi greco perché T è compreso tra 0 e 1 quindi su questa prima parte della circonferenza non arriverò a coseno di pi greco ma un po' meno e poi qui da qui riprenderò esattamente da quel punto lì e ritornerò indietro notate che non è vero che se io semplicemente moltiplicassi F con questo qui che è il rappresentante dell'inversa ottengo la mappa costante in x con 0 ok se io moltiplico questa con questa non ottengo la mappa x con 0 quindi questa operazione di prodotto non è non è un'operazione di gruppo dentro l'insieme delle mappe che vanno da S1 in x puntate qui qui ho dovuto proprio usare un'omotopia tra quindi ho proprio dovuto dimostrare che questa mappa qui è omotopa a x con 0 è omotopa una costante tramite l'omotopia di prima che è piuttosto incasinata quindi questo dimostra che questa mappa qui non è l'inversa di questa mappa qui come funziona come mappa è semplicemente che questa classe di omotopia rappresentata da questa mappa è l'inversa della classe di omotopia rappresentata da questa cioè questa mappa qui che ottengo in questo modo è solamente omotopa la mappa costante e non è la mappa costante la stessa per finire la dimostrazione del teorema dobbiamo verificare che la moltiplicazione è associativa quindi la moltiplicazione deve avere un elemento neutro la moltiplicazione deve avere degli inversi e deve anche essere associativa ancora una volta questo sarà vero solo a meno di omotopia cioè se io moltiplico f per g e poi moltiplico tutto per h questa non sarà uguale come funzione a f moltiplicata per g per h ok dovrò trovare esplicitamente un omotopia tra queste due mappe e lascio questo come esercizio sostanzialmente anche lì ci sarà da costruire un cilindro e poi trovare delle omotopie tra le varie parametrizzazioni che abbiamo qui di queste funzioni quindi notate che questa mappa qui è definita su un cerchio di cui metà cerchio è la mappa su metà cerchio è definita da h la mappa sull'altra metà cerchio metà di quel quindi un quarto del cerchio è la f e l'altro quarto è la g ok mentre questa qui ha sul cerchio la prima metà che è definita non più da h ma da f e l'altra metà è definita un quarto da g e un quarto da h quindi sostanzialmente si tratta di trovare un'omotopia che mi leghi questi settori dei cerchi uno con l'altro quindi in modo tale che da questa parte qui dove la f è definita solo un quarto di cerchio mi si deve estendere su tutta metà cerchio ok quindi uno deve sostanzialmente cercare di trovare un'omotopia tra queste due funzioni definite a tratti su un cerchio in modo tale che i settori di definizione poi vanno a passare con continuità da uno all'altro questo termina la dimostrazione del teorema che asseriva che il gruppo fondamentale era appunto un gruppo il punto 2 era appunto dimostrare che y1 era un funtore allora che vada nei gruppi l'abbiamo dimostrato adesso quello che rimane da dimostrare è che ci sono degli omorfismi indotti da mappe continue in top in mappe di gruppi quindi sia f una mappa da x a y puntata definiamo f stella come l'omorfismo che va dal gruppo fondamentale di x x con 0 nel gruppo fondamentale di y y con 0 nel seguente modo prendo la classe di una di una funzione gamma e la compongo questa funzione gamma con la mia funzione f quindi gamma è una mappa puntata da s1 a x e voglio generarmi una mappa che mi va da s1 a y in modo tale che mi rappresenti una classe in questo gruppo di una utopia quindi la cosa più ovvia da fare è semplicemente prendere questa mappa ad s1 a x e comporla con la f da x a y in modo tale da ottenere una mappa ad s1 a y quindi definiamo in questo modo come la classe della f composta con gamma dobbiamo comunque controllare che f stella è ben definita ancora una volta cioè che se io prendo un altro rappresentante di questa classe diverso da gamma ma omotopo a gamma ovviamente l'immagine se appunto se compongo con f questo nuovo rappresentante otterrà qualcosa che è omotopo a f composto gamma quindi sia alfa omotopo a gamma quindi un altro rappresentante della classe di omotopia di gamma ci domandiamo se f stella della classe di gamma è uguale a f stella della classe di alfa con questo nuovo rappresentante dobbiamo per la definizione che abbiamo dato di f stella di una classe controllare che f composto con gamma è omotopa a f composto con alfa ma questo è abbastanza facile a dimostrare perché io per ipotesi so che ho un'omotopia che ho chiamato h tra gamma e alfa cos'è questa omotopia è una mappa dal cilindro su s1 quindi s1 per i in x che è ristretta alla base mi da gamma e è ristretta all'altezza 1 o alfa come faccio per ottenere un'omotopia tra la composizione di gamma con f e di alfa con f beh basta che io componga h con f e questa qui è chiaramente un'omotopia quindi la composizione di h con f mi dà un'omotopia tra queste due mappe proposizione f e stella è un omorfismo di gruppi per adesso noi l'abbiamo solo definita come funzione di insiemi però noi vogliamo che vogliamo dimostrare che questo è un omorfismo nella categoria di arrivo di pi greca 1 e quindi deve essere un omorfismo di gruppi allora per dimostrare che è un omorfismo di gruppi dobbiamo controllare che l'immagine dell'identità del gruppo dominio finisca nella identità del gruppo codominio e che è poi la linearità cioè che se prendo il prodotto di due elementi del gruppo del dominio e gli applico la mappa l'immagine sarà il prodotto delle immagini quindi f stella in basso del prodotto di due classi è il prodotto di f stella di ciascuna classe allora cominciamo il primo è proprio ovvio cioè dimostrare che f stella in basso dell'identità del dominio è l'identità del codominio non non merita discussione allora nella seconda proprietà invece qualche disegno dobbiamo farlo qui io scelgo una classe di omotopia qui una classe di omotopia un rappresentante qui un rappresentante in questa classe prendo alfa e beta come rappresentanti e voglio voglio scrivere cos'è questo il rappresentante della classe prodotto è per definizione alfa per beta allora come costruisco alfa per beta vi ricordate devo prendere la somma puntata di alfa con beta quindi prendo la somma puntata di 2s1 su uno lo mando con alfa sull'altro lo mando con beta e poi precompongo con la proiezione del cerchio sulla somma puntata quindi questa composizione dal cerchio fino a x è il rappresentante del prodotto di queste due classi quando io li applico quindi questa è una mi rappresenta una classe equivalenza l'f stelle in basso della classe equivalenza prodotto devo prendere il rappresentante e comporlo con la f quindi questo è il rappresentante e lo compongo con la f quindi quello che ho disegnato qui è il rappresentante di questa classe f stelle in basso classe di alfa per classe di beta adesso andiamo a disegnare cos'è un rappresentante di questa classe qui invece dobbiamo moltiplicare assieme questa classe con questa quindi dobbiamo prendere un rappresentante di questa che è f composto alfa per definizione un rappresentante di questa che è f composto beta e moltiplicarla assieme come mappe quindi qui ho questa mappa qui ho quest'altra mappa faccio la somma puntata quindi una mappa da s1 somma puntata con s1 in y e la precompongo con con la proiezione dal cerchio sulla somma puntata per ottenere questo prodotto qui allora se noi guardiamo questa composizione qui in alto e questa composizione qui in basso sono assolutamente identiche come mappe quindi noi vediamo proprio che non c'è neanche da usare l'omotopia dimostrare che questa mappa qui è omotopa questa sono proprio uguali come mappe cioè io ho preso un rappresentante di questa classe quello ho preso un rappresentante di questa classe poi ho preso un rappresentante di questa classe e ho visto che proprio coincidono come mappe quindi chiaramente è dimostrata senza anche l'uso di di un'omotopia tra questa composizione e questa l'ultima parte della lezione consiste nel dimostrare che che l'omorfismo indotto soddisfa le proprietà i e doppio i e con questo si dimostra che il pi greca uno che va da top più a gruppi è proprio un futuro allora bisogna dimostrare queste due proprietà uno che l'omorfismo indotto all'identità è l'identità però questo è totalmente ovvio lo lascio come esercizio la parte leggermente più interessante è questa e vediamo un attimo come dimostrarla dunque anche qui dobbiamo identificare c'è un'uguaglianza tra tra omorfismi questo e questo e com'è che dimostro che due omorfismi sono uguali beh prendo un elemento del dominio di questo omorfismo gli applico questa mappa e voglio dimostrare che questa immagine qui che ho è uguale allo stesso elemento applicato con questa mappa che i due omorfismi sono uguali se l'azione sui vari elementi del dominio coincide allora prendere una mappa cioè prendere un elemento su cui applicare questo omorfismo ricordiamo che questo omorfismo agisce su pi greca uno di di x e quindi questo equivale a prendere una classe di equivalenza di dentro pi greca uno di x e quindi una mappa che rappresenta questa classe di equivalenza è una mappa che va da s1 in x puntata chiamiamola alfa quindi qui stiamo applicando questo alla classe di alfa se applichiamo questo alla classe di alfa per definizione la classe di alfa rappresentata da mappa da s1 in x viene mandata in tutta questa composizione perché g composto f è un omorfismo che prima applica la f poi applica la g e devo comporre la mia classe di omotopia con il rappresentante della classe omotopia con questa funzione continua quindi ad alfa associo alfa composto con f composto con g e tutta questa composizione è una mappa la cui classe è l'immagine della classe di alfa tramite questo omorfismo allora dobbiamo solo scrivere un rappresentante per questa classe di equivalenza prendiamo la classe di alfa e gli applichiamo la composizione f stella composto con g stella quindi vuol dire prendere prendere alfa e applicargli f stella in basso e quindi vuol dire comporre alfa con f e poi al risultato applicargli g stella in basso questa è la definizione di g stella composto con f stella tutto applicato a alfa quindi se prendiamo questa composizione qui e gli applichiamo g stella vuol dire comporre questa applicazione con g alla fine e quindi otteniamo esattamente questa mappa qui che è identica a quest'altra e quindi noi abbiamo che il rappresentante che abbiamo scelto di questa classe è identico al rappresentante che abbiamo scelto di quest'altra e quindi sono queste due classi qui sono identiche questo termina la dimostrazione del fatto che pi greca 1 è un funtore quindi in questa lezione abbiamo dimostrato che pi greca 1 è un funtore che va dagli spazi topologici puntati ai gruppi di Grazie a tutti.